e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Diamo il benvenuto a Roberto Cingolani. Salve. Grazie Roberto. Buongiorno. So che avete fame. E quindi parto da... Sarò rapido e parto da alcune considerazioni che riguardano la nostra alimentazione e la nostra potenza. In questi giorni c'è il Tour de France. E avrete sentito, no? Ci sono questi atleti che fanno volate a 70 km orari e un buon atleta professionista oggi è in grado di erogare per qualche decina di secondi 1500 Watt. Come un buon ferro da stiro, molto di più del vostro frigorifero, molto di più della vostra lavastoviglia, della vostra lavatrice. E' interessante questo perché il 90% di quello che è vivente se la cava con 1000 Watt. 1000 Watt è un kilowatt, un terzo di quello che avete nel contattore elettrico di casa. Allora, fateci una riflessione. In 3 miliardi di anni, l'evoluzione ha sviluppato una serie di soluzioni pazzesche per fare delle cose complicatissime, come siamo in grado di fare noi, con 1000 Watt. In realtà, il vostro forno, il vostro computer, i vostri elettrodomestici, con potenze dello stesso ordine, fanno molto di meno. Questo è, se volete, la prima risposta quantitativa, non ideologica, a chi ha tanta paura dell'intelligenza artificiale, delle macchine, e anche a chi le sopravvaluta, a chi pensa che possono fare chissà cosa. Noi siamo macchine inimitabili. Allora, vorrei, molto brevemente, farvi vedere come si può copiare dalla natura una serie di soluzioni che servono all'uomo di tutti i giorni, comprese quelle che avete visto qua. Quella mano fa qualche decina di Watt, l'essoscheletro è in grado di camminare per un paio d'ore con un battaggio ampiamente inferiore a quello di un essere umano. Bene, la natura, in tre miliardi di anni, ha messo insieme pochi atomi, questa è la scala delle complessità, ha fatto cose molto crescentemente complesse, l'anticorpo, il virus, il batterio. A un certo punto, questi oggetti tiravano fuori delle alette, delle codine, dei sistemi di propulsione, e quindi cominciavano a produrre energia biomeccanica, capacità biomeccaniche. Venivano fuori gli insetti, le piante, chi considera la pianta ferma sbaglia, perché le radici sotto si muovono in maniera molto intelligente, e aumentando la complessità su questa scala, e anche la dimensione, entra in gioco la cognizione. Ecco, tre miliardi di anni risolti in biomeccanica, biochimica, scusate, biomeccanica e cognizione. Questo è un essere vivente. Abbiamo da imparare un sacco da questa roba, e oggi vi parlo della nostra famiglia, ma ce ne sono tante, ci sono tante istituzioni nel mondo che lavorano in questo modo, si copia dall'anticorpo artificiale, dal robot pianta, agli animaloidi, a tutte le categorie di umanoidi. Oggi avete visto qualcosina, qualche esempio, erano dei pezzi che erano stati presi in particolare da questo qui, da questo qui, e si va anche oltre l'evoluzione. Si comincia a fare della roba che non c'è, centauri, cose che potete montare, costruire come volete. Prima di tutto questa roba deve servire. Allora, è chiaro che questi primi due copiano un po' le interazioni biologiche a livello chimico, biochimico, questi altri cercano di copiare le caratteristiche biomeccaniche, poi alcuni pezzi vengono utilizzati, per esempio, per la cura delle persone che hanno perso la mobilità, la riabilitazione. Questi qui cominciano a essere sistemi che interagiscono con gli esseri umani, per esempio i robocompagni, quelli che assistono le persone che hanno bisogno che sono in ospedale, questi addirittura aumentano le performance. Non è terminator, ma ci può andare vicino, sono addirittura vestibili in alcuni casi. Siccome c'è poco tempo, salto qualcosina, voglio farvi vedere degli esempi e poi chiudere con voi con una riflessione. Non vi parlerò della parte biochimica, voglio parlarvi invece, farvi vedere una cosa. Questo è un robot pianta, è veramente ispirato al mondo delle piante. Vedete, ha delle foglie intelligenti che sono in grado di percepire l'umidità e tra l'altro possono essere fotovoltaiche, quindi prendono la luce e la utilizzano per alimentare il sistema. Le radici sono la parte veramente mobile. Le radici fanno quello che fanno le radici normali, sono gravi tropiche, cioè seguono il campo di gravità, stabilizzano la pianta perché vanno al centro della terra, evitano le zone calde, evitano gli ostacoli, fanno quello che fa la radice per tenere in vita la sua pianta. È il motivo per cui un albero decide la posizione migliore in modo da avere la massima stabilità e in modo da trovare gli alimenti sottoterra. Perché si fanno queste cose? Perché un giorno una radice sarà un endoscopio intelligente che crescerà dove non si può entrare chirurgicamente, avendo sulla punta tutti i sensori necessari a trovare quello che ci serve per raggiungere la zona malata. O allo stesso modo potrebbe essere un sistema di stabilizzazione di un satellite che è atterrato su un pianeta che non conosciamo e quindi la prima cosa che fa è caccia le radici, si stabilizza e analizza il terreno. Queste sono tutte cose che noi di persona non possiamo fare. Questo è un esempio di animaloide, questi sono i nostri, non sono robot. Quello che vedete adesso è questo che... Guardate, ditemi se non sembra vivo. Questo è un sistema di poche settimane fa, questo release, tira un aereo da 4 tonnellate e mezzo all'aeroporto di Genova, quasi quasi si vede lo sforzo, se potesse gemere sentireste il rumore. Ecco, vedete, qui c'è uno studio di biomeccanica che è assolutamente pazzesco, abbiamo dovuto prendere gente esperta di capre perché è un sistema di locomozione molto complesso quello del quadrupede, altamente stabile. Questa roba serve, perché oltre a questi casi estremi, diciamo, serve ad aiutare gli esseri umani in situazioni in cui noi non possiamo operare. Chi andrà sulla Luna a costruire le prime basi per ricevere gli esseri umani? Chi andrà su Marte? Chi ci manda degli operai? Allora servirà qualcuno che sia teleoperato. guardate questo qui, questo è un centauro in grado di camminare ovunque con quattro zampe, ma poi è teleoperato. Vedete, qui c'è un tizio che con un esoscheletro gli fa fare quello che vogliamo. Ora immaginate che il tizio sia sulla base spaziale orbitante e il centauro sia sulla Luna a costruirci la prima casa, a costruirci la prima strada, la prima centrale elettrica, quello che vi pare. questo è nel giardino di Jeff Bezos che ovviamente conoscete tutti che fa una conferenza che è intitolata Mars Conference proprio per studiare queste tecnologie per lo spazio. Questo è un immenso giardino come potete immaginare e avevamo il nostro robot che si muoveva lì per fare le demo, per far vedere come è in grado di andare ovunque con una certa autonomia. Qui è sempre lui che fa il muratore. Adesso vedrete in questa demo da questa parte un'altra cosa interessante fa il karateka ovviamente queste sono per certi versi demo stupide però mi fanno capire un po' la capacità che queste macchine possono raggiungere per servire l'essere umano e sono tutte macchine che sono intorno ai 1000 watt per quello ho introdotto non facciamo non abbiamo bisogno di una centrale nucleare per farli andare avanti hanno una batteria esattamente come noi e se ci pensate per quanto possono essere molto efficaci anche per certi versi evocativi non fanno molto rispetto a noi perché uno di noi per fare questa roba qui consuma una parte infinitesimale della sua intelligenza e della sua energia questi sono umanoidi ma tralascio vi faccio vedere invece un'altra cosa ecco questo è un umanoide a basso costo che si trova in fase di test in un ospedale fondazione Don Gnocchi a Milano e questo è pensato per assistere un malato che non si può alzare allora qui gli si dice vai in cucina e prendimi la bottiglietta di succo di frutta sul tavolo attenzione non è stato detto vai in cucina in posizione XYZ su quella certa parte del mobilio prendi la bottiglietta di questo colore con scritto ciò no gli è stato detto vai in cucina e riconosci la bottiglietta e prendila ecco prima sentivate parlare di deep learning questo è un task complicatissimo non è una roba da computer è una roba da umano infatti potete notare che ci mette circa un minuto e mezzo forse col 5G andrà un po' più veloce però comunque questo è il livello di una tecnologia che per quanto assolutamente eccitante è ancora lontana dall'essere performante come l'essere umano su certe applicazioni verticali però è imbattibile se dobbiamo giocare a scacchi mi batte se dobbiamo fare un disegno un progetto un CAD mi batte nell'integrale dell'ecletticità umana non c'è ancora confronto e vedremo fra un attimo perché visto che il tempo stringe vado a noi e loro questo mio figlio piccolo e questo anche fatto in modo diverso se mi chiedete qual è più facile preferisco quell'artificiale perché quello richiede una moglie un po' complicato da gestire però va bene così insomma allora qual è la differenza fra noi e loro vedete noi come mio figlio come tutti gli esseri viventi diciamo avanzati come siamo noi abbiamo 10 alla 14 sinapsi in una struttura tridimensionale fatta 75% di acqua vi fidate chi vi dice che l'acqua è di più 10.000 interconnessioni per neurone 40 watt cioè con un pezzo di cioccolata con un piattino di pasta questo cervello è in grado di fare 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo questa è l'evoluzione sono ioni che viaggiano nell'acqua in un sistema tridimensionalmente interconnesso questo è il computer biologico questo qui invece ha un miliardo di transistor in una CPU con 200 watt fa 100 milioni di operazioni al secondo quindi la verità è che mio figlio con quel pezzo di cioccolata per due giorni rompe le scatole senza fermarsi questo qui dopo due ore è fermo è scarico ciò nonostante stiamo parlando forse di uno degli umanoidi più avanzati che ci siano sul pianeta qui ci sono tutta una serie di demo non ho veramente una manciata di secondi scrive interagisce con gli esseri umani fa kata di karate fa lo yoji può fare tante cose ma niente rispetto a noi allora qual è il punto che quando il ragazzino vede la palla arrivare si butta non ha studiato fisica non conosce l'accelerazione di corioli l'accelerazione di gravità non conosce la resistenza dell'aria non conosce nulla non applica algoritmi si butta e arriva con la mano all'istante giusto a prendere la palla che conto ha fatto nessuno sta sfruttando una sinergia che nel suo cervello e nel nostro funziona così gli stessi neuroni che controllano la vista controllano la presa neuroni che servono a pensare servono anche a muovere muscoli e questo è il miracolo dell'evoluzione allo stesso modo gli stessi neuroni con cui noi capiamo il linguaggio sono quelli che controllano la lingua i muscoli della lingua per parlarlo questo linguaggio il computer questa cosa non la può fare il robot questa cosa non la può fare il deep learning di cui avete sentito parlare prima è un viatico verso questi modelli ma con un ma che noi siamo fatti da sei atomi come tutte le cose viventi quando litigate con vostra voglia e vostro marito state litigando con tre tanniche di ossigeno carbone idrogeno e tre terrine di azoto fosforo e calcio e non vi incazzate più il nostro robot e il nostro telefono cellulare è fatto da almeno 30 atomi perché noi cerchiamo di riprodurre un meccanismo super ottimizzato dall'evoluzione in una maniera che è un po' una scimmiottata tecnologica e quindi il risultato fondamentale è che oggi intanto se prendete un computer un motore non fate un umanoide e se avete un umanoide comunque è inferiore a un umano questa non è Asimov questa è la realtà secondo è vero che avete dei super computer che dagli anni 60 oggi sono arrivati a fare anche un miliardo di miliardi di operazioni al secondo gli exaflop computers ma vogliono 15 megawatt di potenza elettrica una mezza centrale qui in questa stanza ci starebbe bene allora se io volessi una macchina intelligente come me autonoma come me dovrebbe avere una testa grande come metà di questa stanza o una bella centrale elettrica sua con il super computer da qualche parte il risultato qual è? che oggi l'intelligenza artificiale in molti casi non è una cost effective technology serve per applicazioni verticali ma ogni operazione che viene fatta artificialmente costa da mille a cinquemila volte in più l'energia che costa a noi ecco perché noi siamo più agili eclettici riusciamo a fare più cose con meno velocità e meno precisione senz'altro allora io l'AI la uso se mi conviene se ne vale la spesa perché se la devo usare per fare cose stupide francamente non è cost effective non serve è chiaro che noi queste macchine le metteremo tutte quante collegate a un grande cloud che sarà il repositorio globale dell'intelligenza e delle informazioni questo cloud consume una grossa infrastruttura eccetera avremo un'altra specie con milioni di macchine individualmente stupide e un unico cervello pensante è l'intelletto di Avicenna è una specie che non esiste è l'altra specie noi che siamo tutti diversi non predittivi e non predicibili indipendenti e dall'altra parte tutte macchine stupide uguali con un'unica capacità di giudizio allora non serve nemmeno la democrazia quindi concludo con questo confronto noi abbiamo un'intelligenza biochimica che è influenzata dagli ormoni dalla biochimica della vita siamo non predicibili loro hanno un'intelligenza algoritmica dategli le boundary conditions e il problema uguale e arriveranno tutti alla stessa soluzione in certi casi è materia di sicurezza conviene anche in certi altri è noia assoluta noi abbiamo un sistema riproduttivo ormoni che ci creano aggressività paura, amore i motori immobili la biochimica motore della vita e della continuazione della specie loro possono essere montati e smontati non hanno problemi di continuare la specie quindi noi abbiamo aggressività paura, amore loro niente noi abbiamo un powering metabolico fegato scendiamo grassi e zuccheri questa energia ci serve per muoverci abbiamo un istinto di sopravvivenza perché dobbiamo mangiare e l'ora è quella fame aggressività paura loro sono alimentati a batteria electronic powering carichi ricarichi non hanno niente noi abbiamo degli istinti di base quindi sopravvivere e continuarci e abbiamo paura della deprivazione se uno ci leva la libertà se uno ci leva la fame se uno ci leva l'amore noi ci difendiamo questo è il meccanismo su cui si basa l'educazione l'educazione è un meccanismo che è basato su premio e punizione in funzione di quello che tu fai impari e come ti comporti le società sono basate sul premio e sulla punizione la punizione è basata sulla deprivazione se uno fa un reato lo mettete in galera è una deprivazione della libertà questo non lo potete fare una macchina una macchina non si educa perché l'educazione è un concetto molto più alto una macchina si istruisce che è una cosa diversa la macchina erudita noi siamo competenti che è una cosa completamente diversa noi siamo autocoscienti abbiamo paura di morire la macchina se ne frega quando chiudi il computer sa che lo posso riaccendere ammesso che abbia bisogno di saperlo il risultato è che noi siamo umani e la nostra legge è mi amo ma non sono corrisposto è la bellezza del nostro essere artisti creativi emozionali non riproducibili loro sono semplicemente incapaci di amare questo è tutto ci servono in certe situazioni sono più bravi di noi una ruspa più forte di noi un computer più rapido di noi chi va oltre questo è un catastrofista o un eccessivo ottimista sono elettrodomestici di lusso in futuro ci dovranno solo servire grazie grazie Roberto Cingolani grazie di cuore vorremmo chiederti mille cose ma ho deciso che a questo punto noi un giorno stabiliamo che ti portiamo tutto il popolo del Fed direttamente all'Istituto Italiano di Tecnologie invito aperto fantastico non a loro di pranzo va bene grazie grazie mille